Gli italiani sanno parlare l'italiano? È scontato organizzare delle lezioni? Perché la nostra lingua è una delle più amate al mondo ed è studiata in vari paesi. L'uso eccessivo delle parole inglesi potrebbe contaminarla? Risposte che sono state date dall'accademico della Crusche, docente all'Università di Siena, Giuseppe Patotta, nel seminario all'Università d'Annunzio. Un'ampia platea di studenti e di giovani hanno assistito al seminario della professora Patotta, il quale ha parlato della storia della lingua italiana, ma anche dello stato attuale di essa, spaziando tra passato, presente e futuro. C'è bisogno di lezioni di italiano? Sicuramente sì, ma non perché, ecco, non cederò al luogo comune di dire perché siamo un popolo di ignoranti, no, non è così. Perché comunque una comunità deve imparare a usare sempre meglio la propria lingua e quindi più lezioni di italiano abbiamo e meglio sarà. Perché la nostra lingua nel mondo è così amata, così apprezzata e anche così studiata? Sì, ah dunque, sicuramente, certo, non possiamo competere con giganti come l'inglese o come lo spagnolo, come il francese e via dicendo. Beh, queste lingue sono state veicolate anche da un impero, no? L'italiano è stato, quasi sempre nella sua storia, una lingua senza impero. In questo momento, probabilmente, in un posto della Cina o del Giappone, ci sarà qualche giovane che sta studiando l'italiano perché? Perché magari sta studiando canto, sta studiando musica, deve imparare a diventare terrore o soprano e allora ha bisogno di conoscere la lingua del melodramma. Ecco, l'italiano viene considerato una lingua musicale. Non peraltro è definita la lingua degli angeli? È definita la lingua degli angeli, questa sì è una frase che fa dire al protagonista di un suo romanzo, un grande scrittore non italiano, Thomas Mann. Gli chiediamo poi se l'abuso di anglicismi potrebbe riuscire a contaminare la lingua italiana. Risponde no, perché la lingua agli anticorpi necessari è sempre stata incrocio tra nord, sud, oriente e occidente del mondo con vari termini stranieri. Eppure l'italiano è rimasto sempre se stesso. Quindi, escluso il pericolo, che ne pensa di questa moda, di questa tendenza ad adoperare in continuazione le parole inglesi? Beh, naturalmente non ne penso benissimo, fatte salve alcune significative eccezioni. Il pacemaker, ormai dobbiamo continuare a chiamarlo pacemaker. Soddisfatti per l'incontro, Carmine Catenacci, prorettore dell'Università D'Annunzio e Pierluigi Ortolano, docente della D'Annunzio. È utile conoscere la propria lingua, la storia della lingua italiana, anche per quanto riguarda, per dire, le discipline mediche, le discipline tecniche, per non parlare dell'architettura e via dicendo di altri corsi di studio. È una lezione importante perché la presenza del professor Giuseppe Patota rappresenta un valore aggiunto per il nostro Ateneo, per il nostro Dipartimento di Lettere, perché consente ai nostri studenti di incontrare una personalità di spicco della linguistica, ma soprattutto un maestro.